buongiorno lezione numero 38 oggi iniziamo un nuovo modulo che è molto importante nel nostro corso importante anche per sicuramente per alcuni progetti più di altri è importante anche per la vostra carriera è un argomento che è molto importante in informatica in generale stiamo parlando dei grafi c'è scritto qui un potente strumento matematico per rappresentare relazioni tra oggetti ovvero tutto nasce un po di anni fa un breve cegno storico dal problema dei di ulero dei setti ponti di conisberg cioè si chiedeva e ulero che è un matematico che ha fatto tante cose la matematica tra cui anche ha posto le basi della teoria dei grafi perché si chiedeva se nella città questo dovrebbe essere una città danese o svedese non mi ricordo esattamente si chiedeva se era possibile con una sola passeggiata attraversare tutti i ponti della città una e una sola volta questo è un problema che necessitava di una modellazione matematica che in quel momento non esisteva appunto quindi ulero getto le basi di questa modellazione tramite la teoria dei grafi come schematizzando concettualmente i ponti e i vari quartieri della città come rispettivamente archi che connettono le varie regioni della città e nodi che sono appunto le regioni della città quindi quello che era il problema su una carta geografica dell'epoca diventò un problema di tipo matematico su un oggetto che appunto chiamò grafo quindi questi nodi sono in origine le città e le regioni della città e questi archi rappresentano i ponti che si possono attraversare una e una sola volta questo nel problema originario e ulero dimostrò matematicamente che non è possibile tramite una sola passeggiata un solo cammino raggiungere tutte le parti della città attraversare tutti i ponti una una sola volta necessario attraversare un ponte almeno due volte questi tra l'altro sono dei problemini che si trovano magari anche nella settimana elitmistica quindi sono problemi che si possono risolvere anche un po di intuito senza utilizzare la teoria dei grafi però noi usiamo la teoria dei grafi perché poi problemi simili a questi ce li ritroviamo in problemi informatici per esempio dal fantasmino che deve inseguire parkman attraverso il labirinto al navigatore satellitare che deve trovare la strada più corta tra due città una di partenza e una di destinazione fino a delle vere e proprie elaborazioni di tipo sociale i grafi social sono quelli che modellano le relazioni sociali tra le persone quindi facebook twitter instagram eccetera e sono delle cose che vengono usate effettivamente per scopi pubblicitari ovvero tendenzialmente noi ci circondiamo di persone di amici se andiamo a mettere la che sulle pagine dei nostri amici evidentemente abbiamo delle cose in comune con i nostri amici quindi possibilmente un prodotto che viene pubblicizzato a noi potrebbe essere poi utile pubblicizzarlo anche l'amico quindi l'analisi dei grafi sociali è utilizzata non solo ma sicuramente per scopi di marketing quindi per pubblicità quindi sono tutte queste delle grafi sono uno strumento tra l'altro usatissimo nella rete di calcolatori perché ovunque c'è una rete una rete che può essere una rete di calcolatori una rete di telecomunicazioni ovunque c'è una rete quella rete è automaticamente modellata con un grafo e quindi su quel grafo poi si possono fare degli algoritmi una rete idrica una rete telefonica una rete elettrica una rete di antenne telecomunicazioni una rete di calcolatori quindi internet quindi i grafi sono davvero ogni presenti li trovi a li trovate ovunque ovunque ci sia un problema che può essere risolto tramite algoritmi quindi con l'informatica ed è un problema che coinvolge relazioni tra oggetti ok quindi questo è uno strumento che deve essere presente nel vostro curriculum perché è imprescindibile in molte posizioni lavorative è richiesto una conoscenza di questo strumento quindi iniziamo oggi a parlare di grafi allora un grafo nella sua definizione più generale possibile è molto semplice è un insieme di vertici ed archi in inglese v vertices e sta per edges archi quindi un insieme vi divertici numerati dove la numerazione è spesso arbitraria quando non lo sarà ve lo dirò perché non lo sarà quindi vertici numerati come ci pare sono chiamati anche i nodi in alcuni casi poi un insieme di archi e gli archi sono appunto delle gli archi sono delle curve delle segmenti come li volete chiamare che connettano coppie di vertici quindi un arco è formato da una coppia di vertici vertice di partenza e vertici di arrivo dove questi vertici però devono appartenere al grafo sono anche questi possibilmente non numero numerabili ma in generale non c'è un ordinamento quindi così come in generale non c'è un ordinamento sui vertici perché possiamo numerarli come ci pare in generale non c'è un ordinamento sugli archi ok quindi davvero si può dire in due parole che un grafo è un insieme di vertici connessi da archi punto quindi con pochissime parole possiamo già definire quello che è un grafo nel grafo mostrato in figura che quello di eulero il primo grafo praticamente della storia i vertici sono questo 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 e questo che possiamo chiamare con a b c e d e gli archi sono un arco che connette a e c e quindi abbiamo un arco che connette a con c ma abbiamo anche un arco che connette sempre a con c un altro atto che connette a con c ovvero è possibile avere anche archi multipli che connettono la stessa coppia di nodi quindi esistono due archi che connettono a con c 2 anche che connettono a con b un solo arco che connette a con di sta qui un solo arco che connette c con di e un solo arco che condette b con di b con di e c con di a questi altri si possono dare anche dei nomi delle etichette opzionalmente e in questo caso appunto possiamo definire l'insieme degli archi tramite l'insieme delle etichette associate a ciascun arco oppure l'insieme delle coppie di nodi che quegli archi connettono quindi sono due possibili modi di definire l'insieme degli archi ora ragazzi questi slide sono una lista della spesa come vi ho abituato a pensare perché dopo su questa lista della spesa noi andremo a preparare da questa lista della spesa tutti gli oggetti che ci serviranno per mettere sul tavolo gli algoritmi e sono gli algoritmi che fanno cose concrete che consentono di trovare percorsi più brevi quindi lo implementeremo nel pacman e altre e altre situazioni quindi magari adesso è una lista un po noiosa però poi entriamo nel nel merito degli algoritmi i rati possono essere quindi orientati se vedete le frecce che significa se vedete le frecce cioè in un grafo orientato gli archi connettono una coppia di vertici con un ordine specifico mentre qui non c'è una freccia quindi avremmo potuto dire per esempio non solo che ci è connesso a di ma che anche di è connesso a c cioè possiamo andare da c a d o da di ac equivalentemente mentre in un grafo orientato la freccia ci indica che noi non possiamo fare percorso opposto quindi se c'è un arco da c a d e non ce n'è un altro che vada di ac io non posso percorrere quello stesso arco al contrario appunto il grafo si dice orientato ora che significa grafi orientati e grafi non orientati nella pratica questo questa apparente complicazione matematica a che serve in realtà ci sono situazioni i gravi servono sempre a modellare dei problemi in maniera formale matematica la modellazione formale consente poi di implementare algoritmi perché gli algoritmi sono espressi in un linguaggio formale quello che noi chiamiamo linguaggio ok di programmazione pertanto qualunque problema per essere risolto nell'informatica deve essere rappresentato con un linguaggio formale quindi con un modello anche in questo caso formale allora per esempio se volessimo modellare una situazione in cui per esempio le persone si stringono la mano in una stanza beh in questo caso la relazione di stringersi la mano è una relazione simmetrica perché io stringo la mano tizio ma nello stesso istante tizio la stringe a me il fatto che esiste una relazione simmetrica spinge l'utilizzo di grafi orienta e di grafi non orientati perché nel grafo non orientato la relazione simmetrica cioè io da un da un nodo possa andare all'altro e viceversa quindi ad esempio se consideriamo le persone che stanno in una stanza che si stringono la mano e vogliamo modellare questa quest'evento questa situazione con un grafo allora i nostri nodi saranno le persone e gli archi saranno le strette di mano però questi archi saranno degli archi non orientati perché la relazione appunto è simmetrica se invece volessimo modellare una situazione in cui le persone nella stanza in una conferenza a seguito di quella conferenza si mandano delle email allora di nuovo i nodi sarebbero le persone ma gli archi non sarebbero più non orientati perché nel momento in cui tizio mandano a me l'accaio la relazione non è simmetrica certo caio potrebbe rispondere però intanto le mail quindi rappresentare le mail con un arco sarebbe un arco orientato una freccia quindi tizio che manda le mail a caio un altro esempio di grafo mi preme fare quello che sta nella parte destra di questa figura se fossimo stati in presenza in aula avremmo cercato di fare un grafo di questo tipo in cui i nodi sono di nuovo le persone presenti nell'aula quindi voi seduti ai banchi e io in cattedra e l'arco sarebbe se avessimo voluto fare un arco se avessimo voluto creare un grafo di tipo sociale avremmo per esempio potuto modellare la relazione di conoscenza del nome del cognome cioè quali persone conoscono il nome e cognome di quali persone quindi un arco connette due persone anzi un arco va da una persona ad un'altra persona quindi orientato se la persona di partenza conosce il nome e cognome della persona di arrivo un grafo sociale si fatto avrebbe avuto una forma di questo tipo perché tutti voi avete un arco che mi che vi connette a me perché tutti voi conoscete il mio nome e cognome io però magari avrei potuto pure fare qualche arco verso qualcuno di voi io non conosco di tutti voi il nome e cognome anzi inizialmente non conosco nessuno di voi man mano magari inizia a memorizzare qualcosa ma comunque sono poche le frecce che partono dal mio nodo mentre voi tra di voi pure vi conoscete ma non conoscete non è detto dipende quanto è affiatata la vostra classe non è detto che voi conosciate tutti di tutti tutto di tutti quindi sicuramente se siete vicini di banco probabilmente vi siete seduti vicini perché vi conoscete tra di voi quindi magari sapete il nome e cognome del vostro vicino di banco e viceversa quindi ci sono collegamenti fitti tra vicini di banco ma per esempio tra file lontane è possibile che magari non vi conoscete a profondi non vi conoscete bene quindi magari non sapete che ne so il cognome sapete solo il nome o non sapete comunque altre informazioni quindi questo è un esempio di grafo sociale grafo sociale della classe lasciamo stare l'esempio di sinistra non ci aiuta nella comprensione di cosa sono i grafi e ci farebbe soltanto perdere tempo ora ragazzi di grafi se ne possono creare tanti per esempio se vogliamo fare altri esempi di grafi possiamo pensare anche per esempio al cubo di rubik ovvero nel cubo di rubik possiamo pensare ai nodi come le configurazioni gli stati e questo ci fa pensare ad un albero di gioco nel caso di rubik parliamo di grafo di gioco perché noi possiamo mentre nell'albero di gioco le mosse creano una gerarchia che va da uno stato iniziale a uno stato finale nel cubo di rubik io posso tornare indietro cosa che in molti giochi non posso fare quindi nel caso del cubo di rubik ad esempio non è utile modellare il gioco di rubik con un albero ma meglio con un grafo perché nel caso di rubik abbiamo che gli stati sono appunto i nodi quindi ogni configurazione di rubik è un nodo e gli acchi sono le mosse che mi consentono di arrivare da un nodo ad un altro e indovinate un po come si risolve il cubo di rubik come fanno come fanno su internet a fare una cosa di questo tipo rubik robot solver record il record di risoluzione del cubo di rubik non è ovviamente umano perché le macchine sono più efficiente ecco ha già fatto ha impiegato meno di un secondo quindi è partito da si dovrebbe vedere al rallentatore è partito da una configurazione ovviamente casuale e in un tempo che boh non saprei dire penso dell'ordine dei decimi di secondo ha risolto il cubo di rubik come lo ha risolto beh sicuramente molto interessante il sistema di di leve robotica è un sistema meccanico questo quindi c'è tutta una parte di meccanica di controllo che non ci compete a meno non mi compete come in questo momento come docente di questo corso però c'è una parte sicuramente di algoritmo che modella sicuramente questo problema con un grafo e fa sì che da questa configurazione questo è uno stato del cubo di rubik e questo che noi chiamiamo cubo risolto in realtà è soltanto un altro dei possibili stati quindi tutto sta nel partire da uno stato e arrivare ad un altro stato e questo problema a livello di grafo significa trovare siccome vogliamo risolvere il cubo di rubik in un numero piccolo di mosse tutto sta nel trovare il cammino più breve da uno stato iniziale a uno stato che quello che noi chiamiamo cubo risolto e indovinate un po questo problema modellato con i grafi è uguale non simile è proprio uguale al problema di andare da una città ad un'altra quando usiamo il navigatore satellitare anche lì dobbiamo attraversare una serie di stati in quel caso chiamiamo città o nodi della rete stradale e dobbiamo farlo con il numero minimo di di attraversamenti cioè non vogliamo fare percorsi lunghi vogliamo fare un percorso breve in termini chilometrici in termini di tempo di percorrenza quindi l'algoritmo che risolverà quel problema in realtà risolve anche questo problema pertanto ci possiamo fare sia un navigatore sia un risolutore di cubo di rubik ma vedremo che ci potremmo fare anche il fantasmino che deve nel pacman inseguire il pacman nel minor tempo possibile non deve fare i giri come in realtà abbiamo visto che il gioco originale del pacman prevede che il fantasmino minimizzi la distanza o con l'idea però questo a volte lo porta a compiere delle scelte non ottimali e quindi perdersi allungare la strada e pertanto pacman riesce sempre a scamparla in un modo o nell'altro mentre noi al termine di questo modulo implementeremo un fantasmino che fa segue il percorso più breve per arrivare a pacman sempre quindi il povero pacman ha un 0,1 di vantaggio di velocità e dovrà usarlo perché basterà sbagliare una volta prendere una strada sbagliata e pacman sarà morto quindi sarà praticamente un gioco diciamo impossibile per pacman poi vedremo se sarà davvero così quindi abbiamo fatto un po di esempi se ne possono fare tanti altri come dicevo il grafo il grafo di facebook quindi le relazioni sono le amicizie io sono amico per esempio le amicizie di secondo di terza di quarto grado in cosa consistono consistono in profondità di attraversamenti di questi grafi cioè se c'è un arco da me ad un amico una relazione di secondo grado sarebbe un arco da me ad un amico è un altro arco da quell'amico ad un altro amico quindi per arrivare all'amico di secondo grado devo compiere almeno due attraversamenti di archi quindi possiamo modellare i grafi sociali di facebook con questi grafi possiamo modellare con questi con questi formalismi quindi con vertici e archi e ci possiamo fare delle cose ragazzi per esempio linkedin se avete mai usato linkedin linkedin vi dice quanto siete lontani voi da quel tizio cioè per esempio quanto sono lontano io da barack obama cioè quante amicizie ci sono tra me barack obama linkedin vi dice una cosa del genere e bella dice andando a calcolare nel grafo sociale la distanza che c'è tra voi e per esempio barack obama oppure trump oppure biden biden come cavolo si chiama joe biden quindi sono cose che si possono usare si usano assolutamente prettamente nel marketing come dicevo prima per quanto riguarda i grafi sociali però attenzione che marketing su grafi sociali è non dissimile dalla influenza politica cioè durante periodi di elezioni si cerca in tutti i modi ovviamente di avvantaggiare i candidati quindi ogni candidato spende sicuramente un sacco di soldi e avviene sicuramente in america ma penso sia avvenuto anche in italia anche per ottimizzare la comunicazione sui social e questa ottimizzazione della comunicazione passa anche attraverso l'analisi dei grafi sociali quindi a volte mi capita di trovare posizioni annunci di posizione di lavoro che chiedono appunto competenze sui grafi per andare a lavorare in agenzie di marketing o agenzie di influenza sociale agenzie che si occupano di appunto canalizzare l'influenza sociale rispetto ad una persona che in quel momento ne ha bisogno quindi stiamo parlando sicuramente di personalità politiche sì ci sono anche i vip che hanno il loro la loro comunicazione però parliamo di interessi molto importanti cioè una persona che si candida alla presidenza di una regione o di o di uno stato addirittura quindi sono comunque cose molto attuali tant'è che l'analisi appunto dei grafi sociali almeno ai tempi di trump quando trump fu eletto e i sondaggi i sondaggi quindi la tecnica standard non prevedevano la vittoria di trump assolutamente però i sondaggi appunto sono una tecnica diciamo antica che si usa ancora oggi per carità utile non voglio inimicare gli statistici però molto più affidabile dei sondaggi sono oggi le analisi dei grafi sociali dei social e quel tipo di analisi ai tempi della presidenza di trump di quando fu eletto previdero hanno previsto la vittoria di trump contrariamente a tutti i sondaggi e ci hanno azzeccato quindi sono delle informazioni quelle che noi riversiamo nei nostri social quando noi scriviamo quando noi mettiamo like a qualcosa sono delle informazioni che noi stiamo regalando a chi a tutte queste agenzie che si occupano poi di analizzarle o per ottenere delle previsioni quindi chi vincerà le elezioni o anche per influenzare le nostre decisioni quindi proporci degli annunci pubblicitari proporci delle notizie che potrebbero influenzare anche le nostre decisioni politiche le nostre decisioni elettorali quindi magari in un periodo in cui noi abbiamo una certa indecisione in mostrarci in prima pagina su facebook o piuttosto che su twitter o su instagram o su altri canali delle notizie particolari ci potrebbe influenzare andando a insomma prendere una decisione diversa da quella che mai che magari avremmo potuto prendere queste sono cose importanti ragazzi oggi la manipolazione dei dei social avviene tramite analisi dei grafi quindi tutte cose assolutamente attuali vabbè chiudo questa parentesi abbiamo fatto sicuramente un bel po di esempi ok quindi continuiamo la nostra lista della spesa dato un grafo dove tra l'altro per convenzione il numero di nodi si indica con n e il numero di nodi si di archi si indica generalmente con m quindi era convenzione che non uso solo io ma la usano tutti in letteratura nei libri quindi n numero di nodi m numero di archi ora gli archi si dicono incidenti sui vertici che connette quell'arco quindi un arco che connette x e y è incidente su quei vertici quindi questo arco incide su h ed e questo arco incide su e e g i vertici diciamo essere adiacenti x adiacente y e se non è orientato anche viceversa y adiacente x se c'è un arco che li connette quindi per ogni arco diciamo che l'arco è incidente sui vertici che mette in connessione e siccome sono quei vertici connessi diciamo che questi vertici sono anche adiacenti tra di loro l'adiacenza è un concetto di vicinato quindi se c'è un arco che connette due vertici diciamo che questo vertice è vicino a quell'altro cioè è adiacente quindi l'adiacente l'adiacenza è una relazione che significa che c'è un arco che mette in connessione col vertice con l'altro vertice di arrivo se l'arco però è orientato allora la licenza e non simmetrica quindi in questo caso è adiacente ad h ma h non è adiacente ad e perché da e io non posso andare in h tramite questo arco chiamiamo vicini di un vertice i vertici adesso adiacenti quindi è un modo diverso di chiamare radiacenza e chiamiamo con delta grado di v di un vertice v il numero di archi incidenti su quel vertice quindi il grado di e è il numero di archi che incidono su quel vertice quindi 1 2 3 4 5 6 7 il grado di f e 3 1 2 3 il grado di b e 4 1 2 3 4 il grado di a è solo 1 quindi il grado è il numero di archi incidenti su quel vertice il grado di un vertice ora se sommiamo questa è una proprietà che ci mettiamo adesso da parte nella nostra lista della spesa e un giorno la riesumeremo perché ci servirà per dimostrare qualcosa la proprietà che enuncio che se sommiamo i gradi di tutti i vertici di tutto il grafo la proprietà dice che la somma di tutti i gradi è pari a due volte il numero di archi come si dimostra questa cosa si può dimostrare per induzione si può dimostrare per assurdo ma si può anche dimostrare molto più semplicemente per semplice intuizione perché perché il grado di un vertice è appunto il numero di archi incidenti su quel vertice quindi per esempio dicevamo su b incidono quattro archi ora però quando io considero un arco che incide su un vertice ogni arco per definizione inciderà anche su un altro vertice quindi quando io vado a contare tutti gli archi che incidono su ogni vertice dovrò tener conto anche che per ciascuno di quegli archi io conterò un'altra incidenza su un vertice che appunto connette quell'arco che su un vertice che sta dall'altra parte di quell'arco quindi per ciascun somma di grado di v io considero l'arco una volta per quel vertice ma un'altra volta per un altro vertice quindi alla fine quando sommo tutti gli archi incidenti su tutti i vertici ogni arco verrà considerato due volte pertanto la sommatoria è appunto pari a due volte il numero di archi presenti nel grafo probabilmente non ce la ricorderemo però l'andremo poi a riprendere quando ci servirà mi scusi professore che ci serve sapere i cammini e i cicli è importantissimo perché i grafi non stanno lì belli da guardare ma noi ci facciamo algoritmi e molto spesso gli algoritmi hanno a che fare con il calcolo di cammini pensate al percorso più breve per andare nel navigatore da un punto di partenza a un punto di arrivo quello sarà lo chiameremo il cammino minimo più breve ok quindi intanto dobbiamo capire che cos'è un cammino beh un cammino è molto intuitivo un cammino in un grafo da un vertice x a un vertice y è una sequenza di vertici che attraversiamo lungo il cammino quindi un cammino è una sequenza di vertici dove il primo vertice è il vertice iniziale l'ultimo vertice scusate è il vertice di arrivo e beh se innumeriamo i vertici lungo il cammino da zero a k possiamo anche sapere quanto è lungo questo cammino quindi un cammino a una lunghezza pari al numero di vertici attraversato quindi il cammino che vada a ad l non ce n'è uno solo tra l'altro ma possa andarci tramite diciamo il perimetro quindi 1 2 3 4 5 sarebbe un cammino di lunghezza 5 e sarebbe un cammino formato da a b c f h l oppure ci posso andare con a b e i l e sarebbe in quel caso un cammino di lunghezza 4 quindi i cammini in un grafo non ce ne sta generalmente uno solo ce ne sono tanti e proprio perché ce ne sono tanti e di interesse trovare spesso quello più breve quindi in un navigatore noi potremmo fare chissà quante strade per arrivare a destinazione ma tra tutte quelle strade ce ne interessa solo una quella più breve quella minor tempo di percorrenza nel caso però in cui grafi siano orientati pensate per esempio in una città come roma dove ci sono sicuramente molti sensi unici beh bisogna stare attenti che il cammino rispetti anche l'orientamento degli archi quindi in questo caso io nel cammino per andare da a dell non posso fare quello che mi pare prima non so se sono passato dai ma sicuramente non potrei fare a b e non posso più fare questa cosa anzi in questo caso mi pare che il cammino sia quasi obbligato per andare da a dell io posso andare in b sicuramente in di non ci possa andare in e non ci possa andare per forza devo andare in c in f non ci posso andare per forza devo andare in e in giro ci posso andare in h non ci posso andare posso andare in e in l e poi oppure in f in h in l quindi in questo caso ci sono solo due cammini da a ad l a b c e i l e a b c e f h l nel caso di grafo invece non orientato beh praticamente ragazzi i cammini qua sono quasi infiniti sono infiniti non quasi perché essendo gli archi non orientati e posso anche tornare dietro quando mi pare quindi questo è un cammino questo è un cammino questo è un cammino questo 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 mi faccio tutti i giri che voglio è un cammino alla fine ci sono infiniti cammini in questo grafo non orientato a sinistra beh però allora facciamo una distinzione diciamo che i cammini sono semplici quando hanno vertici distinti quindi non possiamo passare due volte dallo stesso vertice quindi in questo caso non è più vero che ci sono infiniti cammini nel grafo di sinistra perché non potendo più tornare indietro ovvero ripassare nello stesso vertice non potendo più fare dei giri perché se facessi un giro un ciclo quindi e passerei nello stesso vertice più di una volta a questo punto qui ci sarebbero un numero non infinito numero finito di cammini adesso non saprei dire quanti ma sicuramente un numero finito quindi un cammino è semplice se eh vi ho mutati per sbaglio eh in che senso vi ho mutati prof 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 ragazzi volume ok e che è successo aspettate allora io non vi sento e non vi ho mutati quindi non saprei dire come come funziona la situazione allora chiudo e riapro ci siete ragazzi prof prof mi sentite prof la sentiamo lei ci sente io non mi sento ah ok ok ma mi avete sempre sentito fino ad ora cioè qual era il problema sì 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 l'abbiamo sentita ma io non sentivo voi esatto perché c'era un ragazzo che le voleva fare una domanda e da lì a dei grafi e se c'è qualche se per lo stesso grafo se tale grafo è non orientato orientato cambia cambia una delle proprietà quale proprietà non mi ricordo adesso perché non le ho schermo mi scusi quindi aspetti un attimo un secondo mi scusi che non me no no capisco è c'è stato questo di seguito io non avevo non avevo il sonoro grazie per avermi mandato l'email ottima idea perché l'email viene visualizzato in alto a destra come ho potuto vedere in effetti ho pensato subito a quello scrivendo sull'oggetto proprio così è scrivendo dell'oggetto ho visto il messaggio perfetto geniale va bene può farmela alla fine non scusi si farmela dopo non è allora dicevo quindi i cammini sono semplici quando non passano due volte dallo stesso modo e la lunghezza così professore che forse dovrebbe ripresentare perché non ho capito vediamo dovrebbe ripresentare la ok è vero sì anche se sì perché sono uscite sono rientrato grazie ok vedete sì sì vediamo perfetto allora di tutti i cammini se noi tra dato una coppia di vertici quindi per esempio l da dato una coppia di vertici l da noi di tutti i cammini consideriamo quello più breve allora la lunghezza del cammino più breve la chiamiamo distanza quindi la distanza è un concetto diciamo un po simile alla distanza equidea che conosciamo quindi immaginiamo di stare in uno spazio in cui ogni volta che noi percorriamo un arco facciamo più più strada il rumore che sentite è inevitabile stanno usando il trapano non ci posso fare nulla allora la distanza sarà la lunghezza del percorso più breve quindi da l ad a ci posso andare sia 1 2 3 4 sia con 1 2 3 4 5 ma meno di quattro non mi sembra che posso impiegare quindi diremo che la distanza tra la e appunto 4 perché non c'è un cammino più breve rispetto a quello che abbiamo trovato l h e b e b a ok quindi la distanza è la lunghezza del cammino più breve poi ci sono i cicli beh i cicli l'abbiamo un po capito prima un cammino che ripete gli stessi vertici e significa girare in tondo significa muoversi lungo un ciclo un ciclo è un cammino in cui l'ultimo vertice corrisponde al primo quindi se voi siete andati da v 0 a vk ma vk uguale a v 0 allora ci potete andare di nuovo da v 0 a vk quindi state facendo praticamente un giro in tondo in questi grafici in un grafo non orientato è anche un po superfluo parlare di cicli perché in un grafo non orientato basta un arco per fare un ciclo io posso andare avanti e indietro rimbalzare tra una coppia di nodi e in effetti si parla di cicli non tanto sui grafi non orientati ma più che altro sui grafi orientati perché su quelli dove noi ci possiamo chiedere ci sono cicli se ci sono dove sono questi cicli in un grafo invece non orientato i cicli stanno dappertutto basta un baston basta un no un un arco per creare un ciclo quindi grafo orientato a destra quanti cicli ci sono ebbe ce ne sono tanti questo è un ciclo questo non è un ciclo perché vedete non posso tornare indietro questo è un ciclo questo è un altro ciclo questo ci possono essere anche cicli più lunghi per esempio h i g e b c e h anche no e f h questo è un altro ciclo quindi ci si può divertire insomma trovare tutti i cicli se i vertici di questo cammino di questo ciclo sono tutti distinti tranne ovviamente prima l'ultimo allora si dice che il ciclo è semplice anzi possiamo subito fare l'esempio che h i g e d b c e f h non è un ciclo semplice che siamo passati da e per due volte un ciclo semplice invece sarebbe h i g e f h questo sarebbe un ciclo semplice perché non siamo mai passati dallo stesso vertice due volte un grafo orientato perché ha senso solo per i grafi orientati che non acicli diciamo che un grafo aciclico tutto qua altre definizioni se esiste un cammino per ogni coppia di vertici cioè se data un punto di partenza è un punto d'arrivo come nella mappa stradale posso sempre trovare un cammino che li connette allora diciamo che grafo e connesso un tipico esempio di grafo connesso e la mappa stradale perché difficilmente nella mappa stradale io trovo un punto di partenza un punto di arrivo e non c'è nessun modo per arrivarci è come se il navigatore dicesse mi rifiuto di calcolare il percorso mai si rifiuta il navigatore a meno che voi non state facendo un cammino che va da roma new york beh no stiamo parlando comunque di insomma di mantenersi nello stesso nella stessa terra emersa e con lo stesso continente ok quindi se esiste un cammino per ogni coppia di vertici scusate se esiste un cammino per ogni coppia di vertici il grafo si dice connesso quindi l'esempio della carta stradale ora è facile dimostrare che se per ogni coppia di vertici esiste un cammino ci devono essere almeno e nemmeno uno archi perché ragazzi perché se immaginate di avere n nodi ed è possibile arrivare da un nodo di partenza non gli arrivo qualsiasi significa che per ciascuna coppia di nodi ci deve essere almeno un arco quindi il caso peggiore cioè il caso in cui ci sono meno archi possibile è quello in cui avete tutti i nodi allineati come una lista collegata e in una lista di n nodi quanti archi ci sono n meno uno quindi al minimo in un grafo connesso ci devono essere almeno n meno uno archi ok vabbè se il grafo orientato questa proprietà si traduce in fortemente connesso la forte connessione insomma non ne parliamo nemmeno il diametro sono dei concetti che stanno lì ma non li useremo mai io preferisco concentrarmi sui concetti che invece ci saranno utili per gli algoritmi queste sono definizioni che diciamo non sono utilissime per per il seguito una cosa che poi useremo in realtà negli algoritmi invece è il grafo indotto ovvero se noi di un grafo che contiene un numero di vertici v è un insieme di archi e se consideriamo un sotto insieme di questi vertici allora il grafo indotto da sotto insieme di questi vertici è un grafo che ha per vertici quelli che abbiamo individuato e per archi i soli archi che coinvolgono vertici che appartengono a sotto insieme di vertici che abbiamo individuato spieghiamoci meglio quindi dato questo grafo qui sulla destra se noi consideriamo il grafo indotto dai soli vertici a b no scusate dai soli vertici b e h i l il grafo indotto da questi vertici sarà il grafo composto da questi vertici e dai soli archi che li connettono quindi stiamo escludendo tutti gli archi che non sono rossi perché sono archi che connettono due vertici che non sono entrambi i vertici del grafo quindi in questo caso abbiamo b che è un vertice del grafo ma di non è un vertice del grafo indotto è terribile questo trapano sta proprio qua dietro mi dispiace nessuno mi aveva avvertito e non c'è un'altra stanza in cui posso in cui posso andare voi lo sentite forte questo rumore c'è un modo per perché mette a disposizione google mit mette a disposizione la soppressione del rumore allora intanto voi lo sentite forte in diante ma non esageratamente è perché già probabilmente c'è un c'è qualcosa di c'è un elaborazione del segnale e adesso provo a fare questo voi mi sentite ancora sì sì lo sentiamo vediamo adesso se scompare che adesso ha proprio smesso in questo momento il trapano quindi vediamo quando riprenderà se sarà migliore la situazione ok ora gli archi di un grafo possono anche avere e spesso è così dei pesi e quindi in questo caso diciamo che grafo è pesato ora che cosa rappresentano questi pesi solitamente questi pesi rappresentano dei costi costi che significa per andare appunto da b ad a cioè il costo di quell'arco nel caso del navigatore vi chiedo a voi cosa rappresenterà quel costo secondo voi cosa potrebbe rappresentare le risposte non sono univo che la distanza da un punto a un punto b per esempio la distanza chilometrica e perché è un costo e beh perché per percorrere 100 km io spendo benzina uso benzina oppure che altro tipo di numero si potrebbe associare a quell'arco pensate ad una situazione di traffico quindi non solo il chilometraggio ma per esempio il flusso di auto il tempo di percorrenza immaginate che state sul raccordo anulare per andare da b ad a attraverso questo arco impiegate 10 minuti attraverso un altro arco attraverso un altro cammino in realtà per esempio a me è capitato che intrappolato nel raccordo il navigatore mi dicesse sai che c'è esci qui perché ti faccio fare un giro più lungo quindi maggior chilometraggio però questo giro più lungo in realtà ha un minor tempo di percorrenza perché sul raccordo è tutto fermo se fai il giro più lungo in strade di campagna in verità ci metti di meno e io ho fatto esattamente quello che il navigatore mi ha detto e ci ho messo di meno cioè sono arrivato a destinazione mentre se fosse rimasto sul raccordo sarei avrei portato del ritardo poi all'appuntamento voi lo sentite questo rumore dopo che o no non lo sentiamo eccezionale significa che in questo momento c'è un algoritmo che sta facendo l'elaborazione e la pulizia del rumore cosa che io tratto in un altro corso però è bello vedere che viene fatto anche qui bene quindi è importante questa nozione di grafo pesato che però in realtà utilizzeremo più in là quando faremo i cammini i cammini minimi poi ci sono le cose divertenti che si facevano a scuola magari quando siete un po annoiati vi divertivate ci divertivamo tutti a unire questi puntini quello che stiamo facendo in realtà nel momento in cui ne uniamo tutti i nodi quindi per ogni coppia di nodi noi riuniamo con un arco quello che stiamo creando è un grafo che si dice completo un grafo è completo se per ogni coppia di nodi esiste un arco che li congiunge quindi ovviamente all'aumentare del numero di nodi questa rete di archi si fa sempre sempre più fitta fino ad arrivare a dei disegni ovviamente molto molto carini molto strani vabbè sono grafi si dice molto densi grafi completi ora a che serve questa cosa oltre al nostro divertimento visivo serve per dimostrare una cosa importante che ci sarà utile quando parleremo di complessità computazionale quando noi parleremo di complessità computazionale esprimeremo la nostra complessità in funzione del numero di nodi m e del numero di archi m ora però mentre il numero di nodi n quello è il numero di archi noi non riusciamo a capire più o meno ci serve ci servirebbe ci sarebbe utile capire in quale range è compreso cioè il range il è compreso ci servirebbe mettere un limite inferiore è un limite superiore in relazione al numero di nodi ora il limite inferiore in realtà abbiamo già dimostrato perché se il grafo è connesso e tipicamente ragazzi grafi sono tutti connessi cioè perché nel caso di rubic è sempre possibile andare da una configurazione ad un'altra nel caso di fantasmino è sempre possibile partire da quel punto arrivare a pacman nel caso del navigatore è sempre possibile ragazzi i grafi sono quasi sempre connessi se non sono connessi significa che esistono delle porzioni che non sono in comunicazione tra di loro in quel grafo e quindi più che parlare di grafo non connesso bisognerebbe parlare di insieme di grafi quindi sono grafi che tra di loro non sono connessi quindi comunque in quel caso si può parlare dei singoli pezzi del grafo che a loro volta sono invece connessi quindi in un grafo connesso abbiamo già dimostrato che il numero di archi è almeno n meno uno se invece il grafo non solo è connesso ma è fortemente denso connesso quindi ci sono tante connessioni possiamo noi stabilire un limite superiore al numero di connessioni allora la relazione sta proprio qui ogni coppia di nodi c'è un arco che li congiunge allora utilizzando la matematica è come se in una stanza noi dicessimo che per ogni ogni due persone si stringono la mano cioè avete una stanza di venti persone queste venti persone a coppie tutte le coppie possibili si stringeranno la mano quindi tutti si stringono la mano con tutti chi sa se è possibile fare questa cosa su su google online binomial calculator non è probability non volevo calcolare la probabilità binomiale binomial coefficiente perché rispondere alla domanda quante strette di mano ci sono in una stanza di venti persone in cui queste venti persone tutte si stringono la mano tra di loro è un numero esorbitante che uno non si aspetta da qui poi ci sono tutti discorsi sul covid eccetera eccetera allora vediamo se riusciamo a fare questo calcolo è il coefficiente binomiale di venti persone che si stringono la mano how many ways can k be chosen from n quante strette di mano relazioni a due quante coppie si possono scegliere dall'insieme di n elementi beh il risultato beh no non è ok cento novanta non cento novanta miliardi è cento novanta ci sono cento novanta strette di mano in una stanza di venti eh persone anche se è giusto questo numero cento novanta comunque la definizione di eh di coefficiente binomiale vediamo se non ci fidiamo di un risultato eh quante strette di mano vabbè effettivamente venti persone sono veramente poche eh tipicamente in una conferenza ci sono che ne so in una stanza ci sono più o meno cento persone queste cento persone magari ne so ci vogliamo far stringere la mano non so in chiesa si stringono quasi tutti la mano pensate bastano solo cento persone che si stringono la mano arrivare ad un numero esorbitante di quasi cinquemila strette di mano in quella stanza ora questa cosa che serve nel nostro caso serve perché ehm si può dimostrare quindi adesso quanti sono gli archi di un grafo completo e beh qui vale a chiedersi quante sono le strette di mano perché sono relazioni simmetriche cioè coppie di persone in una stanza eh in una stanza appunto di n persone beh il coefficiente binomiale andate si va ad applicare la formula del coefficiente binomiale e si ottiene n per n meno uno mezzi ora n per n meno uno mezzi per noi che ragioniamo in termini di complessità asintotica è n quadro perché sarebbe n quadro eh meno n eh n quadro mezzi meno n mezzi ma per noi quello è n quadro quindi abbiamo finalmente trovato che il numero di atm in un grafo connesso eh non sappiamo però quanto è denso questo grafo allora possiamo dire che nel caso in cui ha una densità minima cioè una lista collegata allora il numero di archi sarà pari al numero di nodi in caso invece in cui n meno uno è però l'ordine è quello del numero di nodi nel caso in cui invece il grafo sia fortemente eh denso connesso quindi addirittura completo potrebbe addirittura raggiungere n quadro quindi dato un grafo di n ed m archi sappiamo sempre d'ora in poi che il numero di archi m è compreso tra n ed n quadro ora che sia più vicino a n o più vicino a n quadro dipende dalla densità di questo grafo beh se la rete è stradale in una rete stradale mi viene da pensare che sia non dico n quadro perché n quadro significerebbe che esiste sempre eh una un arco che connette ogni coppia di nodi non è vero perché se i nodi sono isolati di una città tipicamente un nodo c'ha soltanto diciamo un incrocio a quattro c'ha quattro vicini non n eh quadro quindi in un in un grafo di di una mappa stradale siamo più vicini a n che a n quadro eh però ci sono invece situazioni dove eh dove si può avere questa eh non magari n quadro però si può essere più vicini a n quadro eh a n rispetto a n per esempio eh quando si parla di contatti i famosi contatti tracciamento dei contatti in una stanza eh in una conferenza in una scuola quindi immaginate siamo in una classe con dei ragazzi quanti contatti ci sono in una classe eh quindi il grafo che modella questa situazione mi verrebbe da pensare che sia molto più vicino a n quadro che a n perché è vero che in una classe ci sono i gruppetti che magari tra di loro non si parlano però appunto questi gruppetti al loro interno tendono ad avere dei contatti molto densi quindi il grafo di una classe di studenti è un grafo sicuramente molto denso se per noi gli archi sono i contatti ravvicinati eh che in epoca covid sono diciamo vietati ok quindi vabbè questo è un importante limite inferiore e superiore ehm ragazzi la lezione finisce qui eh domani riprendiamo da qui parlando di rappresentazione di grafi eh quindi interrompo la registrazione abbiamo avuto un po' di interruzioni oggi un po' per colpa mia un po' per il trapano però va bene va bene così va bene così va bene così va bene così grazie a tutti